una scimmia una scimmia rossa fulva sì 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 diego vogliamo andare facili discord no è tutt'oggi che mi grascia tutto ma a prescindere da noi oggi adesso è proprio anche anche lo stream adesso sta botta andata a zero la connessione per un tot ragazzi come la canotta rimuove lo so no ma non è colpa vostra vabbè comunque quindi che avevo scelto mobili che ha esatto seconda estrazione 7 di denari confermate anche queste carbonara ti 7 di denari potete scegliere tra lo dico però pure meno aspetta che devo modificare il logo sono andato la stagione sacerdoti prescelto o antiche profezie sappiate che questi temi poi li dobbiamo legare in qualche modo trovare dei pettegolezzi che si uniscano sacerdoti e sacerdoti generale tanti prescelto uno perché non è il prescelto sono stronzi qualsiasi o antiche profezie antiche profezie sacerdoti con il mobile besta fa molto ridere eh lo so le gare poi a mobili che ha probabilmente beh antiche profezie con mobili che ha se non è c'è stato anche sacerdoti mi piace sacerdoti mi dà l'idea di un rituale sotterraneo e qualcosa tipo i mobili che possono non so sono un veicolo si tipo sai no le robe tipo i mobili che in realtà sono messi tatticamente come passaggi segreti all'interno di green ox e sotto c'è tipo il mega il mega cerchio rituale di pazzi satanici o una roba del genere i sacerdoti che fanno dei rituali con i nomi dei mobili che ha anche anche perfetto se si quindi sacerdoti si va bene allora ci calvano in toscana sacerdoti tipo dio aspetta vediamo un po un rituale come potrebbe venire e cominciate a pensarci perché io faccio la terza estrazione del terzo tema che però mi fa cacare e prendiamo un bellissimo re di bambini di carciofi mobili vetrine super cattivi invasione sottomarina cantanti punk rock merda allora il rituale potrebbe essere baghebbo ivar brimnes besta ect clatu barada nicto esatto svalet billi callax plazza auga lomarp giustamente il punk ci sta bene pure con sta cosa si aspetta era punk poi sottomarina e poi invasione sottomarina cantanti punk rock e super cattivi un generico super cattivi se passiamo a sacerdoti vabbè è anche molto scontata però sacerdoti tipo di dagon tipo divinità sottomarine orribili uomini pesce che escono fuori quella potrebbe starsi anche abbastanza scontato ridimmeli ridimmeli invasione sottomarina cantanti punk rock super cattivi super cattivi è molto safe sì punk e spicy perché comunque possono essere appunto pure i punk che spasciano i mobili ikea per fare i rituali oppure che non sono punk ma i vecchi ovviamente tutto è sbagliato i punk sono i punk ci sono beh se potrebbe in realtà se non testiamo liceo si potrebbe fare che i sacerdoti la storia delle sacerdoti fanno un rituale con i nomi dei mobili ikea ed evocano un gruppo punk rock zombie questo lo capiamo basta mettere il terzo tema e poi incominciamo a creare uno o più pettegolezzi perché questo le strade i pettegolezzi le inventate voi sappiate che poi quella saranno le linee narrative ho capito però nessuno mi risponde sto pensando al tema al terzo tema io so per super cattivo dai più tranquillo super cattivo è molto generico cioè su super cattivo ci si può fare qualsiasi cosa è vero puoi mettere su ogni cosa super cattivo cioè può essere è il duce per dir cioè nel senso sì il duce può essere anche punk rock esatto oddio penso che sia anche questo super cattivo sì o io sono anche per super cattivo o invasione sotto marina invasione sotto marina mi dà un po' di roba lovecraftiana quindi io voto per quella lo sai che quando ho sentito l'invasione sotto marina io pensavo tipo c'è russi o sottomarini tipo ombre rosso anche potrebbe essere collonica hanno sbarcato mi hanno detto esatto i famosi sottomarini del Mediterraneo no duce duce baldazzi non credo vada bene infinito e beh beh allora super cattivi manteniamo sempre dai dai super cattivi allora cominciate a inventarvi queste storie quindi abbiamo detto subito che ci saranno sicuramente sacerdoti che usano i mobili Ikea e i nomi dei mobili Ikea per fare dei rituali sì praticamente i mobili Ikea in realtà sono tutto un modo per per dimostrare questa lingua ok ok che più potete inventarne un altro paio sentitevi liberi legati a questi a queste tematiche che abbiamo scelto sì 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 se puoi praticamente un super cattivo sta tagliando i fili dell'internet a dalla ok sono ricrasciato esatto e lo fa con la besta i vecchi quando muoiono vengono fatti a pezzi e diventano mobili Ikea vengono tipo ricostruiti tipo in questa maniera da qualche super cattivo in maniera anche magari rituale non so se collegarlo però sicuramente è tutto connesso va bene pure è solo super cattivo non deve esserci per forza tutte e tre se c'è anche un pettegolezzo solo su uno va bene però i vecchi morti vengono è la gorge ho sentito che l'infermiera anche ruba le medicine per per andarle a rivendere alla camorra che sappiamo è il super cattivo per l'antanomasia esatto ma infatti io vorrei vedere un bel film dei super eroi Marvel contro la camorra non si succederà mai regà non so che dì pure anche opera opera io pensavo fosse il programma più potente del mondo quindi ma ci c'è qualcosa che fa in conflitto non so cos'è secondo me gli Avengers potrebbero sconfiggire la mafia eppure non hanno mai fatto un cazzo esatto pazzesco secondo me dovrebbe essere la connessione magari è molto pesante sulla connessione ti ha fatto crashare prima lo stream ti casca un cromo ogni tanto perché io vedo che io tipo non avendo nemmeno la live accesa c'ho sempre il triangolino giallo della connessione ma io non ho perso mezzo frame nel live pure io ma io non perdo mai frame infatti ah crash e basta cioè meglio vogliamo provare Discord sì cioè che poi passa dalla andare cioè non è che dici rallenta funziona benissimo poi improvvisamente poi si butta giù tutto sì è come se ci avesse delle perdite non è non è stabile non le perdite sì però cioè da qui a far me crasha tutto esatto completamente il computer è proprio brutta poi la scheda del pc che sta esplodendo non lo so che cazzo dice Paciocco che ogni tanto ti casca proprio la connessione della chiamata cioè mi sa che Paciocco ti sta guardando pure a te e ti vede che praticamente su di noi cade non so se te ne sei accorto no questa cosa non me ne so accorto ok in che anno e ambito della campagna però anno si scrive senza H e quindi l'unica cosa che tiene è quella merda di di Discord che non fa al massimo si abbassa ma non fa non crasha che al massimo si refresha al massimo si abbaco esatto ah potrei fare un'altra cosa potrei mettere questa cosa qui però mi sembra strano perché c'è 100 mega in upload non dovrebbero per cazzo no 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 figurati beh figurati effettivamente il triangolo va in giallo avete ragione ma a parte il triangolo io non è che so sta la cosa non la sto stando io no infatti dovrebbe tu non dovresti avere problemi di sorta secondo me non lo so però perché Max non sta streamando e quindi non possiamo fare l'esempio Nico sta in si sta un attimo flexantibus qua pixelato però esiste e te c'hai il triangolo giallo ah ma non è che stavolta sei tu che c'hai troppo troppi peni troppi peni però troppo a uscita la testa che vuol dire cioè che hai un bitrate altissimo ma c'è un botto di upload c'ho ce ne ho tantissimo di upload sto con 8000 su dis su OBS e qua 6000 quant'è si tipo a me so 4 però si non lo so non lo so non lo so però sia nel senso così se mi grascia costantemente è impossibile fare una partita c'è proprio una merda cioè devo risolvere questo problema il prima possibile però comunque usiamo discord subito in corsa eh eh ma perché da lui Paciò usa la sua cam non usa il segnale adesso è meglio eh sì sì molto meglio come fa non avevo messo massima risoluzione nelle impostazioni prima di entrare ah ah sei il fortissimo lo so l'ho ricordato dopo che c'era quel pulsante c'è un pulsante addirittura che ti dice oh ma best best resolution no no suca allora vogliamo fare che ci spostiamo su discord per star sicuri anche se però non sappiamo ma in realtà non lo so rega perché io proprio oggi ho problemi cioè oggi mi era crashata la live a un certo punto poi sei ripresa e appena cioè indipendentemente dalla chiamata anche per quello poi in più quando aggiungo qualche peso in più evidentemente dà fastidio al computer non so che quale cazzo sia il problema e è tornato croccante sì e infatti che ti mangio e poi niente non lo so rega quanto potrebbe durare sta run allora diciamo che secondo me siccome per le 9 ce ne dobbiamo andare oggi incominciamo a mettere su il setup e quindi poi la prossima sappiamo che dobbiamo solo giocare perfetto abbiamo il personaggio abbiamo l'ambientazione e poi partiamo direttamente abbiamo l'oretta e mezza secca oggi facciamo il setup vi introduco a quale può essere l'ambientazione che cosa succede a Greenhawks e incominciamo a conoscervi come vecchi va bene e incominciamo a vedere se siete stronzi poi io direi pure questa cosa nel caso in cui Diego crasha ci troviamo un attimo su discord buttiamo il segnale ci salutiamo e ci rimandiamo direttamente a settimana prossima no se succede regà la prossima settimana famo con calma tutto quello che manca e partiamo subito a cannone esatto io in tutta questa settimana lavorerò per mettere a posto tutto sì 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 ma senza alcun problema io ripeto facciamoci benedire se esistono dei santoni digitali per piacere incominciate a benedire i pc perché qua non è una no io ecco che avevo fatto quando ho messo la scheda maria nuova ho formattato ma ho fatto un format non di quelli proprio grevi che cancellano tutto ma ho tipo reinstallato windows e gli ho fatto cancella tutto certo hai fatto il ripristino di sistema hai fatto sì ho rifatto tutto però non so se va bene ci sta vabbè e ok allora vogliamo introdurre prima che crashi la storia un'altra mezz'ora vai allora ciao a tutti i cocoriti e benvenuti nella mia cazzosissima cameretta questa cosa la dovevo dire non so perché mi è venuta questa cosa e detto questo benvenuti a Green Hawks Green Hawks è questa ridente località di undicimila anime in Montana come potete vedere dai bellissimi prati verdi da quest'altra parte dal bellissimo deserto ma allo stesso tempo a Green Hawks voi residete in questo bellissimo residence da persone anziane vi ci hanno portato chi i vostri figli chi è andato da solo perché ha detto guarda la terra bella tutta però sono rotto il cazzo voglio che qualcuno incomincia a prendersi cura di me perché non c'ho più magari un arto funzionante bravo la copertina lo volevo fare anche io ma sarei morto di caldo quindi in questi giorni a Green Hawks questa ridente località che voi passeggiate tranquillamente anche per il centro e non state sempre in ospizio avete visto che da è stato annunciato qualche tempo addietro ci sarà un festival punk che durerà tre giorni e sarà tutto allo stadio dei Green Hawks quindi incominciate a vedere anche per le strade della città ovviamente state già giocando eh per quanto mi riguarda quindi potete già parlare quando volete e e vedete già per la strada arrivare dei balordi incominciate a vedere dei punk a bestia vedete delle persone con dei bambini che hanno le cuffiette attorno alla testa incominciate a vedere i paninari che stanno prendendo l'assedio delle strade e così via il concerto punk ovviamente si chiama punk hawks perché non hanno molta fantasia siamo sempre in un paese di undicimila ma quindi siamo a Bologna no però grazie è finito era questo probabilmente esatto probabilmente ci hai preso in pieno e vedete che effettivamente anche già dalle undici del mattino nonostante voi siete persone di una certa cultura ehm agricola diciamo così incominciano a bere per strada già dalle undici del mattino ok questo è il setup della nostra avventura quindi quando volete potete incominciare a giocare mi sta trascinando io sono ferma in sede di hotel quindi tipo sono con l'infermiera dietro che mi sta tirando indietro e io l'unica cosa che faccio è dire una roba tipo i cultisti del caos sono arrivati i cultisti della nation la nation fanculo di così basta mi sto lamentando guardando i punk a bestia pensando che sono gente di warhammer di slanesh ok continuo a parlare senza dirmi che cosa stai facendo va bene così grazie ho bisogno di risapere i nomi degli altri anziani Gianfrappio detto Fran stai con Gianfrappio tutti tutti fermi questi stronzi che sarebbe il colonnello Busacchi ovviamente esatto il colonnello Busacchi esatto poi c'è il Giovanni Portone che non capisco se è fermo immobile perché ha una paralisi su una secca a rotella è cresciato di nuovo è così fermo che non si capisce se è cresciato è così è fortissimo potrebbe stare fermo nella vita e fare i soldi no? no? ok sembra ridere poi c'è che sei Marcello Pacciani Marcello Pacciani sì sì certo e lo sappiamo e oh signore si è svegliato oh Giovanni Giovanni dimmi ha visto c'è i drogati i drogati i drogati e quelli quelli con le creste con quelli i panche ci sono i panche i panche ma siamo arrivati a largo preneste no c'è le panche no quelle dove ti siedi quelle che si drogano siamo tutti vicini siamo tutti siamo sì 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 siamo nell'ospizio ma siamo arrivati a largo prenesti siete fuori al giardino dell'ospizio fronte strada ok immaginatevi caos hanno frenotato la fermata no è st hanno 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 prenotato la fermata quelli che buvi nei pantaloni con gli spilli nel naso quelli di tutti i drogati sudici cohani si stanno a fondo al pullman di solito te la visti quelli in pullman si devono scendere la prossima devo fermare non c'erano mai biglietto quelli quelli quale giustamente colonnello l'eresia di orus ho visto sono tutti l'incoglioni in questo posto ho visto ho visto metti un punto in fastidio nico ho visto hanno tradito già una volta l'imperatore adesso sono qui sono tornati di nuovo non possiamo farci niente l'imperatore l'imperatore dell'umanità brutto è proprio brutto è proprio brutto è una situazione infermiera infermiera ma è uno spizio manicomio allora arriva l'infermiera arriva l'infermiera chiamata Itala ah si? si si chiama Itala è un nome strano in America però si chiama si scrive con la doppia E è Etala ah ok si esatto infermiera ditemi dottor Facciane oh Teresa guarda c'è il colonnello qui mi sa che è un po' ha bisogno delle goccine perché è un casino se no non ci si ragiona guarda trilla tutto di modo non so è il filmatino il filmatino il colonnello come trilla guardalo il colonnello tira fuori dell'iPhone gli metto il filmatino dell'annuncio di Warhammer 40.000 quello nuovo pensami quello della lor sulle salamandre per favore grazie gli fa la ricerca è un iPad kid pro anziano esatto ok ma secondo me tu rincoglionisci di più a guardare con questi video nel telefono sempre con questo telefono in mano tu pari mi nipote dio maiale è che ragazzi ho lavorato seriamente anni in un ambiente frequentato da anziani in un circolo quindi questo è questo è questo è meta esatto se è interpretativo l'ho acquisito si si se l'ho acquisito come quelli che vanno in mezzo alle scimmie per studiarli praticamente allora all'improvviso arriva una macchina che è sparatissima a 3000 è tipo una Citroen Saxo cioè quelle macchine ultra piccole che hanno 25 anni tutte spasciate che non fanno più da 20 anni ma dentro all'ospizio entra nel portone dell'ospizio cioè si va a come si dice a sbattere va a sbattere nel cancello dell'ospizio si ferma là c'è un botto incredibile e vedete effettivamente che usciranno da questa macchina due tre sbandati allora all'apparenza non vi sembrano punk ok si sono trasandati sono molto carcobene andante camicioni cose larghe però hanno anche dei dei pantaloni molto lunghi ok molto lunghi larghi tipo i pantapareo e e incominciano a mettersi le mani in fronte e a scendere dalla macchina sono arrivati i drogati colonnello abbassano i drogati colonnello io li fisso tantissimo tipo c'è qualcosa che non mi torna bisogna andare a prendere il fucile colonnello io c'ho quello da caccia ma non è buono i drogati io c'ho sempre una pistola tipo una Luger vecchissima tipo nel schilum io c'ho il cambio del quando lo sparava a Fedeschi della sedia della sedia no il cambio del coso del pullman dell'Atac il pomello del volante quello il cambio quello lungo che c'ha dentro il pullman per cambiare la marcia quello che c'ha l'ottava sì che è la mia arma che cosa hanno di particolare questi pantaloni lunghi che cosa hanno c'hai presente i pantapareo quelli larghi che si mettono pantaloni al palazzo tipo quelli di Aladin esatto rossi beh tutti a tre ce l'hanno rossi sono drogati per forza questi sono di quelli che fumano oddio i comunisti gli spineli della droga sì quelli quelli eh e cominciano ad avvicinarsi verso la struttura perché ovviamente hanno battuto contro la cosa e cominciano a percorrere il vialetto sì totalmente inguardabile che assomigliano tipo me però vestiti di rosso tecnicamente poi sopra cambiano poco ah per forza si sono dei drogati no sono quelli dei Squid Game non hanno proprio le tinte ah ok questi questi nascondono qualcosa se ne sono sicuro io vedi che pantaloni così larghi c'è qualcosa dentro è una roba che piuttosto pesa l'ho visto me l'ha raccontato i miei nipoti e dice ci tengono dentro la droga e la droga si va bene noi guarda che ai tempi usavamo anche ho visto dei tedeschi fare delle robe del genere con questi pantaloni per me sono comunisti sono tornati comunisti non lo so ragazzi io non mi fido non mi fido assolutamente ok tu sono comunisti un po' di trigger ma non tantissimo io colonne però quando si avvicina il tizio si avvicina il tizio con tutto bloccato si avvicina ma le infermiere dove sono dove sono le infermiere vi chiede a voi infermieri infermieri sono per noi mia per voi i drogati levatevi da oglioni cosa cazzo Teresa dei pantaloni ma chi siete voi chi siete andate via non ci avete il concerto ad andare a vedere voi no non siamo qui per il concerto nel frattempo comincia a arrivare Teresa vado avanti Teresa c'è i tedeschi comunisti c'è la gente c'è c'è non capisco più nulla io che è arrivato ma che cosa è successo allora i drogati i comunisti non ho capito allora quando gioca a Roma ah no ok allo stadio c'è i drogati oggi non c'è la Roma ah vabbè questi qua altro che vedere le cose come il carcio questi qua vedete sentono le canzoni tutti i miei smile come sono vestiti mettete tutti e tre un punto fastidio ok giusto perché state facendo una cacciara tale che cioè compreso il quanto gioca a Roma ecco sono stati comunisti i tedeschi i drogati no un botto fortissimo sono traditi da quello qua dentro si è schiettata una macchia oddio si è schiettata una macchia no no non lo so ok metti un punto fastidio quindi sappiate che non è vero c'è quel cosi ma detto questo e comincia a cacciarli fuori Teresa però loro si fanno sempre più avanti provano a spingerla via e la buttano per terra che fate dei delinquenti ma sti qua non è il quale Teresa ma Teresa Teresa non è il quale io cerco di di fare la sì ma è uscita Teresa non è uscita Italo è me che c'è solo l'infermire un si chiama Teresa anche l'altra no ti dicono i comunisti ti dicono direttamente no hanno la mia faccia e dicono no e rimettono la faccia proprio ok ma perché Teresa era la badante di Marcello a casa e ora tutte le le signore che lo badano siamo tutte Teresa voi vedete in questo momento che io sto proprio facendo così sto facendo così col cellulare cercando qualcosa scrollando sì sì sto cercando una roba aspetta aspetta allora andate 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 voi vedete che sono proprio così stressato io sto facendo così col cambio e faccio un po' grande ok vedete che comunque quando prima di cacciarla via hanno confabulato qualcosa non avete sentito bene carica finalmente ho trovato la cosa e parto con la sedia contro i punk questo cazzo parto così parto da sole power game ok sì power play sempre per forza questo è per la prima puntata abbiamo detto D&D non è però va bene detto questo facciamo una in realtà sono solo partito posso essere partito ma anche in direzione sbagliata cioè io sono partito perché ho premuto solo la cosa della manovella e sono andato adesso andiamo a cazzo dritto per solo la prima prova vai ok quindi estrarremo una bellissima carta sappiamo che la briscola è coca scusate ragazzi è un'emergenza scusate vai tranquillo se hai fatto il cacca nel pantalone l'ho fatta anch'io però non lo dice all'infermiera perché se no mi brontola lo dice la mia figliola ma tu non ce l'hai il figlio hai detto hai giusto hai ragione lo sai lo dico lo dico a tua figlia scusate ok tutto a posto però si Federica ha scaricato il telefono l'ha mandato a mi ma lo fanno e io non trovo un attimo la risoluzione dei conflitti eccolo ma state indicando che è successo si è avviato il io sono partito io a vedere la signora buttata in terra dai punk mi è salito proprio ok siccome è stato il suono hai messo siccome è una figura di briscola hai avuto successo quindi raccontami cosa succede ti ricordo che guadagni spocchia e se hai successo quindi se ti bulli poi dell'azione guadagni spocchia di più il piano non è stato particolarmente pensato in quel momento dal colonnello Busacchi cioè lui è partito con l'intenzione di dire io difendo la signora sta venendo vessata quindi sono partito in avanti e ho puntato diciamo alle ginocchia se avessi fallito se avessi fallito sarei andato da tutta l'altra parte cioè avrei partito e andavo da una dica immensa una roba del genere invece ho mirato bene questa è la cosa ho mirato bene e quindi vado sui calcagni li vado sui calcagni con la sedia a rotelle vedete questa cosa come se fosse stato il lancio di una sedia a rotelle come una palla da bowling contro questi tre tizi che li cappotta e li butta tutti per aria madonna ok guadagni due punti spocchia come si chiamava lui? ricordamelo? Gianfrabio io colonnello Busacchi colonnello Busacchi va bene o Gianfrabio o Gianfrabio grazie Gianfrabio affasso loro adesso ho fatto vedere ma poi peraltro il lancio staranno benissimo cioè però il colonnello ha fatto la guerra si vede per festeggiare e spinnare tipo da solo vabbè comunque guadagni anche il terzo punto spocchia ok merda perché gli hai detto ho fatto vedere io così perché ovviamente voi vecchi di questo a dopo buona serata grazie Aurormax buona serata e lasciate in pace la signora proprio così alla faccia vostra giovinastri così allora ho fatto per per difendere la signora su tre cristiani che stavano tutti a mattina e due sono rintronati e sono svenuti per terra uno è caduto però è stonato ma non è svenuto ok io approfitto vai 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 approfitto della situazione che il colonnello era appena entrato allora io infuriato anch'io veramente imbufalito piglio il mio bastone perché chiaramente ho il bastone però due è lì con tre con quattro cosi no? con le palline da tennis ho lì i comunisti drogati non so che bussiete inizio a randellarli che mi sembra più moribondo quello che mi sembra meno brutto delinquente drogato ma sono fortissimi questi vecchi siete dei vandali uno è Pacciani l'altro è Colonnello che cazzo volevi vabbè allora io mi unisco prendo il cambio dell'Atac lo prendo come se fosse una massa da baseball e a due all'ora mi avvicino verso lì vai 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 Giovanni vai tutti drogati tra i miei tempi voi vi filmate in galera invece ora mi siete vai Giovanni e mentre mi avvicino cado per terra piano piano a stessa velocità con cui stavo camminando andiamo Giovanni muoviti mi rialzo i dizi stanno per terra sì due sono svenuti proprio l'altro si sta pronto allora io vado verso gli svenuti incomincio a cercare i biglietti dell'Atac delle prolezionate io vado mi avvicino un attimo verso la signora verso Itala Teresa non posso fare niente se non avvicinarmi con la signora tutto bene allora guarda che non li fanno più gli uomini così come una volta come noi l'ho visto caro colonnello però è vero pure che questi non sono nemmeno tanto nemici perché Itala comunque è una signora di certa età non credete che Itala sia una ragazzina ma signor ma chi sono cosa volevano i tedeschi i comunisti i drogafi allora chi siete che volete allora Teresa un attimo interdetta non ti sa rispondere ok e con l'ultimo quello che stava per svenire visto che gli avete menato e Diego gli è caduto addosso oh ma lasciatemi stare l'ha placcato praticamente io volevo semplicemente parlare siamo tutti martoriati però vedete che non non capisce quello che sta dicendo sta dicendo cosa che fa e io vado un'altra bastonata mentre per lo sforzo vado anche un correggione e chiaramente c'è un controllo col cambio dell'altra e dico cos'è proprio parte anche allora ho macchiato le mutande esatto hai macchiato le mutande e prendi fastidio vi ricordo che se vi lamentate potete ritirare la prova questa è l'estrazione per Diego che è una briscola è un 3 di briscola sai che hai avuto successo nella tua prova ok segnati che ti dovremmo mettere delle parole sagge a fine partita per quando morirai ok e prendi 4 spocchia minchi 4 si perché asso 3 sono ovviamente i punti più alti nella briscola quindi valgono mi sono cadato addosso ma 4 spocchia che mi dava puoi permetterti di creare un nuovo pettegolezzo ok ovvero un nuovo un nuovo elemento nella storia che andiamo a vedere ok e qual è la nota che mi devo segnare e che ti metteremo parole sagge quindi lascerai effettivamente un monito dall'alto della tua postanza come autista del tram negli Stati Uniti lascerai un bellissimo lascito posso già spenderlo la spocchia voglia te e quindi che metto pettegolezzo 1 che ci do mettono x e ci mettono no no devi dire devi dire proprio dopo spenderlo allora quando lo vuoi spendere introduci un nuovo elemento narrativo ok ok quindi ti dici ah no il discorso dei comunisti se ti vuoi ricollegare e creare un pettegolezzo vero per cui questi effettivamente sono comunisti spendendo la spocchia lo puoi fare ok la posso spendere adesso resetti si ok spendo la spocchia e no cancello dopo il quadrato vabbè ah bo si cazzi ctrl z undo 4 punti spocchia non sborra allora io ah rica ho trovato tra la tasca c'è stato sto bietto dice che c'è sta un concerto proprio qua qua che è poi possibile c'è un concerto di qualcosa qua io voglio fare un concerto qua dentro all'ospizio la via è questa ma chi chi ha chiamato chi è che le vuole vedere dice che c'è c'è un concerto qua ci sarà un concerto qui dentro dentro l'ospizio sì dentro la commanda sì ecco gli hai preso nictus è successo anche al ragioniere l'altro giorno madonna lascia l'anima sua nello servizio Giovanni vada ribotta sulla camera Giovanni eh mi sa ragazzi dimmi certo il ragioniere gli erbava anche luce dimmi non ci sia nulla di male nel 2024 ma insomma dimmi era diverso l'esempio era un pochino c'è chi dice tempi migliori io si può essere d'accordo non sono d'accordo ma tutto bene ormai non mi frega più nulla tanto Sarzana è me in più eh lo sono pepepecia pepecia ma addosso più che altro a quanto pare se le medicine lo fanno rifigliare un attimino che lo vedo un pochino messo male eh eh queste medicine dimmi eh chissà che ci danno queste medicine ragazzi io vi ricordo giusto per eh dimmi hai letto su internet minca ho letto su internet c'è nei vaccini dice c'è i 4G che ancora non ho capito perché stanno le 4G granuli granola io non l'avevo capito che ero crashato no no quindi tutti sapranno che cosa hai detto e noi no no sono perso un pezzo di storia ma perché che ho detto no non lo so è crashato cioè niente continuo a ripetere dimmi dimmi all'infinito e io pensavo che mi stava da no perché max macchia Giovanni dimmi dimmi non mi risponde a nessuno che cazzo ne so stavamo ruolando il fatto che te era caduto però effettivamente la ruolata è venuta perfetta proprio i due vecchi che non si capiscono cioè proprio rincoglioni Giovanni Giovanni e basta poi ho detto solo dimmi 4 volte 5 volte come me lo fai rivedere per piacere dimmi dimmi ecco tu l'avevi chiamato no era stato ok Giovanni Giovanni stai dicendo il concerto del coso Giovanni eh è il concerto non ho capito ci sta dice ci sta un concerto qua stasera effettivamente tira fuori il biglietto si dice che è una specie di secret concert voi non sapete che cos'è un secret concert in gioco ma nella vita reale si quindi effettivamente sapete che dentro l'ospizio le persone terranno un concerto e il concerto lo terranno soprattutto gli assassins fog ok ok un nome un ufido assassins fog assassins cos'è che dice assassins fog cos'è sta roba cosa vuol dire eh uno studiato in inglese ragazzi dimmi assassins assassins Giovanni cos'è che vuol dire assassins assassins cioè rock Teresa che ti ha studiato ho fatto le scuole arte magari allora Teresa non la vedete più ecco soprattutto non vedete più nemmeno i tre cristiani che stanno per terra ecco sono spariti cioè non vi siete accorti evocati ma che ero sono in realtà nella tempolina principale è passato sono passati 45 minuti ma che ero sono ragazzi oh è bello e buio fa buio presto ma allora è arrivata ora di mangiare ma allora ci facciamo andiamo a mensa anche con fame è venuta fame ma è venuta ecco qua ok io per ora tento in vano di nascondere il fatto di mi soccato addosso perché se l'infermiere lo scoprono mi prontola oh ma che posto che c'è comunque oggi incredibile ho sentito ho visto su internet che questi questi comunisti non si lavano ma infatti ma mi sa che da quando sono arrivati c'è una puzza si fanno chiamare panche e bestie panche e bestie si fanno chiamare e loro si 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 comportano come le bestie si lavano mica ma mi non so ma l'ha lasciata proprio se ma che ci segue sta puzza qui si si hanno quelle trecce quelle trecce tutte no qui ok Giovanni oh sveglia che adesso bisogna andare a mangiare Giovanni bisogna andare a mangiare Giovanni oh dai che poi facciamo tardi che poi sai che la scoprona chi poi rancio si rappresentano Giovanni eh dimmi si andà a mangiare no no dai su dai si canta il joystick e inizia ad andare in una direzione allora dai fa freddo andate a mangiare vabbè e c'è da rinondizionata parecchio arte a questo posto però eh andando via voi entrate nell'ospizio la camera ci lascia hai presa anche la bronchife guarda Giovanni come sta oh Giovanni bevi un po' questo gli do la cosa gli do proprio la boccetta di whisky proprio della grappa bevi questo Giovanni dai mo che ti schiarisci anche un pochino dai mo da guidare l'autobus esatto come l'autobus non guido più da 40 anni eh sì dai dai si fa per ridere siamo toscani dio buono state sul cazzo prendete un punto di fastidio da Diego Diego innanzitutto tutti quanti incazzati solo perché non andiamo a mangiare quindi chi è che prende il punto fastidio scusa allora ne prende uno Diego e ne prendete uno cumulativo tu uno in più tutti quando arriva a quattro che succede? incastra incastra pure il gioco noia avete la lamentela avete la scenata quella per cui potete sbroccare e avere un successo ribaltare il risultato di una carta ok perfetto però vi dovete lamentare come le merde esattamente come vi dicevo mentre voi state entrate dentro per mangiare e qui la vostra camera se ne va via c'è un zoom out per cui vedete il campo del come si chiama vedete il parco della clinica Greenhawks la macchina non c'è più e si è fatta effettivamente notte ciao abbiamo finito per questo appuntamento allora questo è il setup siamo partiti abbiamo cominciato a introdurre gli elementi di narrazione sappiamo che ci sarà ci sono queste leggende per cui sacerdoti usano i mobili Ikea per fare rituali i vecchi morti vengono imbalsamati per trasformarsi per creare i nuovi mobili Ikea le infermiere vendono i mobili e i vecchi no i morti scusate no no i mobili dell'ospizio alla camorra è diventata parte dell'ambientazione c'è i camorristi esatto e c'è un concerto dentro l'ospizio dell'assassin's fog questi sono gli eventi che accadranno nel prossimo appuntamento che speriamo non farà mai più crashare niente se no io spacco tutto un saluto all'amice all'ascorto di questo appuntamento dei gio di ruolo gio esatto i gio va bene io vi ringrazio però mi dispiace probabilmente ma ci mancherebbe altro Diego no ma mi fanno anche rovina il mood perché Dio Cristo non riesco a scendere le due cose perché quando so che sta per crashare non riesco a godermi la cosa non so se avrebbe mai capitato a voi no no a voglia sì sì c'è anche il bel altro no figurati mica avuto un incendio e un fulmine a studio a me mancano a me mancano le cavallette la terra e l'acqua e ho tutti gli elementi per chiamare Capitan Planet con me guarda ti dirò tu c'hai avuto sto problema grave però sai qual è io no io non so qual è il problema quindi devo andare o vado a cercare non è impossibile non sai con chi prendertela non so con chi cazzo prendere l'unica cosa è sempre la storia è reformatta io però formatare lo odio e quindi non so con chi cazzo prendere eh lo so potrebbe essere quindi una roba di connessione Diego invece che invece che di no perché sul pc principale non me lo fa mai cioè non mi è mai crashato nulla qua qua non mi dà è quello di gaming è solo su quello da streaming me lo fa capito? ah non farò il cazzo quindi non cos'è il cavo il cavo ethernet si è bruciato non lo so non ha senso no boh però il cavo ethernet che si brucia tecnicamente non ti fa connette no che all'improvviso stacca così boh non lo so non lo so vabbè ragazzi siete bellissimi e fantastici ci vediamo il prossimo martedì continuiamo nella lore e io vi salverò questo problema del cazzo dai dai buona live a tutti quanti a voi buona continuazione di serata con i programmi di canale 5 ciao ragazzi ciao ragazzoni ciao ciao ciao